Pietro Genuardi, noto per il suo ruolo di Armando nella sua popera Il Paradiso delle Signore, ha annunciato di dover lasciare la serie a causa di gravi problemi di salute. Il 62enne attore milanese ha rivelato di essere affetto da una rara malattia del sangue, che richiederà lunghi e intensi trattamenti, inclusa la possibilità di un trapianto di midollo. In un lungo post sui social media, Genuardi ha spiegato di essere già in cura e di dover abbandonare momentaneamente la sua carriera per concentrarsi sulla sua salute. L'attore ha ringraziato il personale medico che lo sta assistendo e ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi colleghi e dai fan. Genuardi ha dichiarato che sta affrontando il secondo ciclo di chemioterapia e che presto non sarà più presente sul set del Paradiso delle Signore. Tuttavia, ha assicurato di essere determinato a tornare più forte di prima e ha promesso di lottare per la sua guarigione. L'attore ha anche ringraziato la sua famiglia per il sostegno ricevuto e ha espresso la sua determinazione nel superare questa difficile prova. Concludendo il suo messaggio, Genuardi ha espresso la speranza di poter vivere ancora a lungo e di poter tornare a stringere la mano ai suoi fan. La notizia della partenza di Pietro Genuardi da Il Paradiso delle Signore ha suscitato grande commozione tra i fan della serie, che hanno manifestato il loro sostegno e affetto per l'attore in questo momento difficile. Resta da vedere come la produzione della sua popera gestirà la sua assenza e se il personaggio di Armando sarà rimpiazzato o se alla prossima. Grazie a tutti.